L'idea originaria che sta alla base di questo progetto, che ha come primo capitolo, come prima parte, una specie di cadavere lunghissimo, cioè lo spettacolo dedicato ai testi di Pasolini e di Somalvico nell'ultima parte. L'ingegner Gadda va alla guerra, che costituisce a tutti gli effetti il completamento e quindi la seconda parte di questo progetto. L'idea che sta alla base era quella di tentare di rispondere a un quesito molto elementare, cioè come fosse stato possibile arrivare a tutto questo, come fosse stato possibile arrivare all'oscenità dei tempi in cui siamo sprofondati. E così intorno al 2001-2002 ho iniziato a lavorare, in un primo momento da solo e poi con Giuseppe Bertolucci, su un'idea di drammaturgia, cioè sull'invenzione di un nuovo testo partendo da alcuni testi di Pasolini. Pasolini e Gadda perché in qualche modo sono due autori che ci dovrebbero aiutare a tracciare la rotta di un viaggio che ci conduce fino al nostro presente e in qualche modo dovrebbero esserci di aiuto, come da bussola per orientarci in questo viaggio. Sono due autori e due italiani, oltre che due autori, che più distanti forse non potrebbero essere per formazione, per lingua, per visione della storia e anche in qualche modo per visione politica. Eppure c'è qualcosa che secondo me li unisce strettamente e questa cosa è da un lato un disperato amore verso il proprio paese, un amore furioso verso il proprio paese. Gadda ama incondizionatamente il proprio paese e per il proprio paese è disposto a perdere la vita partendo come sottotenente nel quinto reggimento degli Alpini per il primo conflitto mondiale. e i diari di prigionia in qualche modo rappresentano secondo me il cuore del mistero di Gadda perché in qualche modo ci permettono di ricostruire non soltanto come nasce un genio e a cosa è dovuta l'esplosione improvvisa di questa lingua fantasmagorica che abita la letteratura italiana del Novecento, ma ci racconta anche molto dell'Italia e degli italiani. Così come Eros e Priapo che io uso nella seconda parte ci aiuta in qualche modo a definire attraverso questo ritratto tragico ed esilarante sulla psicopatologia erotica del Presidente del Consiglio Benito Mussolini e soprattutto sull'attrazione periodica che il popolo italiano prova verso le figure affette da delirio narcissico come dice lui ci aiuta a capire un'altra porzione di questa realtà. Ma dicevo che cos'è che unisce questi due autori che più distanti non potrebbero essere? Da un lato questo umore furioso e dall'altro una cosa abbastanza rara credo per il nostro paese cioè un esercizio quotidiano, direi una pratica quotidiana di demolizione di se stessi attraverso cui questi due autori si conquistano sul campo questi due italiani si conquistano sul campo il diritto e lo statuto morale di poter esprimere un giudizio su quello che li circondava. Ecco, questo secondo me rende le parole, non soltanto le parole poetiche, le parole letterarie ma anche le parole civili di questi due autori in Pasolini più esplicitamente, in Gadda più, così più in maniera forse più nascosta ma non meno evidente rendono queste parole così pesanti e così autorevoli. Sono allo stesso tempo italiani ed anti-italiani nel senso che tutte e due in maniera completamente diversa Pasolini facendo in qualche modo di se stesso il capolavoro dello scandalo Gadda in maniera sideralmente opposta costruendo un'identità che rifugiva completamente da ogni narcisismo e da ogni esibizione quindi con un'identità molto più nascosta molto più segreta rappresentano tutte e due tanto un modello di italiano quanto di anti-italiani nel senso che nessuno dei due si proponeva esplicitamente come anti-italiano o almeno nel senso cioè dico questo nel senso che tutte e due ci tenevano a essere all'interno come dire di una linea di pensiero cioè volevano in qualche modo portare la loro critica ripeto ancora una volta in maniera completamente diversa cioè sono proprio due mondi assolutamente non paragonabili ma dall'interno del tessuto italiano quindi ai nostri occhi risultano sicuramente essere degli anti-italiani ma credo che la loro intenzione non fosse assolutamente quella di essere anti-italiani di essere al di fuori cioè Pasolini soffriva disperatamente del proprio isolamento non credo che l'isolamento di Pasolini faccia parte di quelle zone in cui in qualche modo Pasolini provava anche un compiacimento e un piacere nell'essere emarginato credo che non provasse nessun piacere nell'essere fuori da un certo tipo di italianità la sua era veramente una disperata solitudine soprattutto negli ultimi anni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti